ragazzi iscriviamoci al canale è gratis voglio arrivare a diecimila prima di natale vediamo se ce la faccio non dipende solo da me dipende anche da voi aperto fascicolo che frenturam ora voi e tanto mi sentite parlare di che frenturam no quindi non sono l'unico ovviamente parla di che frenturam ma anche in chat gli esonerati anche michele che saluto nella nostra chat whatsapp ma ragazzi io era tanto non vedevo un centrocampista così forte perché chi di voi si ricorda edgar davitz della juventus il davitz quello che asfaltava tutti al centrocampo che da solo teneva il centrocampo ecco per farvi un esempio che frenturam è un davitz molto più forte molto più forte soprattutto tecnicamente tanto per rendervi un po l'idea del calciatore è un metro e novantadue ma è agilissimo è forte negli spazi stretti a livello difensivo che frenturam è impressionante è impressionante a livello difensivo ma non solo a due piedi ottimi sa giocare a calcio è fortissimo anche tecnicamente dinamismo e poi potrebbe giocare tranquillamente play ma è un peccato metterlo play perché con tutti quei cavalli che ha mezzala è un crack è troppo forte quindi visto che tikus sta trovando bene a milano che il padre lo porterebbe così mi dicono volentieri a milano ovviamente non lo prendi a zero metikus qui si parla di 30 40 milioni un giocatore attenzionato da mezzo mondo che frenturam c'è anche la pimenta di mezzo il procuratore non è facile portarlo a milano ragazzi sembra comunque anche il padre stia spingendo per farlo andare a milano visto anche la buona riuscita di tikus e visto anche l'ambiente nero azzurro ragazzi dall'inter vanno via tutti poco volentieri quella e qui ragazzi e qualche tifoso dell'inter sta criticando i primi sonana io sonana vi voglio dire una cosa ragazzi sento tanti interisti che godono vedo tanti interisti che godono gli errori alle papere di un anno al manchester united no io ti posso dire io ti posso dire come la come la vedo io io non me la sento di criticare un ragazzo parlo di un anno ovviamente che all'aeroporto piangeva perché è stato mandato via dall'inter perché servivano soldi perché un anno era un interista voleva rimanere all'inter è stato mandato via perché servivano soldi all'aeroporto se vi ricordate sembrava non volesse salire nemmeno sull'aereo la faccia di quando scende dal van non me la sento di criticare uno che non voleva andare via ragazzi e che è stato mandato via perché la situazione economica è vergognosa poi se qualcuno di voi vuole criticare facesse pure io non me la sento di criticarlo un'ana i giocatori sono andati via sono andati via tutti per motivi economici non è che brosovic ti mette il circo perché anche lo stesso broso sarebbe rimasto perché ti mette il circo brosovic scrigna scrigna non hai avuto la forza di rinnovargli il contratto poi dopo lui sicuramente avrà pensato per se stesso per la propria carriera ci mancherebbe la verità sta sempre nel mezzo ma parte sempre tutto da lì parte da il fatto che ormai eravamo una società disastrata a livello economico lo siamo ancora fino a quando non cambierà la proprietà ma il tempo ormai lo spazio si è sottigliato addio se vogliamo ragionare ragazzi vuoi criticare un'ana e piangeva perché voleva rimanere all'inter perché è stato spedito a manchester perché servivano soldi per fare mercato ma di che si faccio una ragazza bologna una partita difficile perché il bologna il punto di forza del bologna il punto di forza del bologna per assurdo per un allenatore innovativo mettiago motta anche se come ho detto ieri è molto meno innovativo rispetto a un paio d'anni fa ora è molto più pragmatico ma il punto di forza del bologna è la fase difensiva difficile fargli gol e davanti a un giocatore che a me piace tantissimo che si chiama zixi zirc 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 come si pronuncia non lo so zirc zirc l'olandese che era anche al bayern monaco che ha allenato anche nages ma che addirittura lui ha esordito anche in campionato nel bayern è un giocatore fortissimo alle stigmate di ibraimovic questo vi deve solo diventare un poca un po più cattivo sotto porta ma un metro e novanta è veloce forte tecnicamente tutte e due i piedi fa assist fa gol spaglia la porta ragazzi questo vi è il ricciolone forte del bologna a me piace questo ragazzo lo sto osservando da un paio di settimane tecnica sublime questo zixi zirc cioè veramente veramente forte a breve lo chiameranno anche il nazionale maggiore secondo me quindi capito anche io ho postato un video di fabio bergomi ieri no quando parla degli arabi ma gli arabi sono tanti però fabio bergomi lo dice io non so di preciso se sono chi saranno e tipologia di arabi quello se lo diciamo noi non ti preoccupare tra l'altro lunedì dovrei essere anche ospite da anzi sono ospite da fabio bergomi non si sa che ora faremo una live faremo un intervento perché eh io da fabio bergomi ci vado sempre volentieri quando mi invita per me è un piacere ragazzi per il resto vediamo come la va a bologna si gioca oggi riposa tikus duram perché poi alla fine quelli sono campanelli d'allarme giusto farlo riposare giusto far giocare sanchez vedere quanta autonomia può avere sanchez su taremi c'è la coppa d'asia mi avete scritto eh ma tanto eh vanno fuori subito loro taremi con la sua nazionale va fuori subito dalla coppa d'asia ma è uguale non ce l'hai per diverso tempo e ti ripeto se te mi se tu mi avessi detto taremi al posto di arnautovic e di sanchez sì ti avrei detto prendiamolo però anche lì vai a pagare pagare a spendere comunque 10 milioni è un giocatore che va per i 32 anni ne vale la pena è quello che ho detto io e poi a me come il calciatore non è entusiasma io ho espresso solamente un mio pensiero ragazzi chiesto solda a nessuno non frullato in tasca a nessuno di voi ho detto che a me taremi non piace ciao inter ci becchiamo dopo